Il finale di One Piece sarà scontato e banale, oppure no? Ciao a tutti ragazzi, è da un po' che non ci vediamo, qui su Nerd Retro, ho avuto alcuni momenti pieni, la stagione di Serie A però è terminata, è in attesa degli europei, dovrebbe essere un pelo più libero. E sono tornato con un video di One Piece che invece mancava da tempo, semplicemente perché, contrariamente a quando c'era il flashback di Orso Bartolomeu, e a tal proposito se non siete arrivati all'ultimo capitolo 1115 non andate oltre perché rischiate veramente di rovinarvi il finale o quando arriverete seguendo l'anime, seguendo il manga, quel momento lì non andate avanti. Quando c'era il flashback di Orso ero particolarmente contento, felice, perché si stavano analizzando alcune tematiche che mi piacevano e anche tanto. Diciamo che negli ultimi capitoli non mi sta dispiacendo, One Piece perché non mi sta dispiacendo sarebbe una bugia dire il contrario, ma sono tante informazioni che per me sono semplicemente scontate, banali e scontate. E proprio per questo ho deciso di fare questo video. Ho un pochettino scritto alcuni punti, quindi mi perdonerete se ogni tanto andrò a dare un'occhiata allo schermo, ma mi sono scritto alcune cose che secondo me convergono tutte in quello che sarà il gran finale di One Piece e mi preme dirlo all'interno di un Eged che secondo me si sta dimostrando una delle saghe più importanti del manga. Devo essere onesto con questa cosa qui. So che a tanti non sta piacendo Eged, so che per molti è una saga buttata lì, così, dove non sta accadendo chissà che cosa, le informazioni, eccetera, eccetera. Invece per me è fondamentale Eged, perché comunque è l'apertura della macro saga finale che ci porterà prima, immagino, al villaggio dei giganti e poi a Laugh Tale. Dovrebbe essere bene o male una roba del genere, però per me Eged è veramente fondamentale. Poi vedremo quello che succederà da qui a breve, perché sappiamo che si stanno muovendo alcune cose come il robottone e tutti quei segreti che Vegapunk dovrebbe raccontarci, ma che ripeto, per me non sono dei segreti incredibili che mi fanno rimanere la bocca aperta, sono semplicemente alcune cose che mi fanno dire ok, figo, me lo aspettavo, immaginavo che potesse andare così. E allora voglio partire da i Lunariani. I Lunariani che sono una razza che è ritenuta istinta in questo momento, soltanto King ce l'abbiamo come essere noto, l'abbiamo visto, il suo vero aspetto, l'aspetto dei Lunariani, quelle che sono le caratteristiche fisiche combattive, eccetera, eccetera, erano una razza che originariamente viveva sulla Red Line, e quindi questa è un'informazione molto molto importante. Oltre a King abbiamo visto altri personaggi, proprio ai Ged, che ricalcano un pochettino quelle che sono le caratteristiche dei Lunariani, e sono i Serafini, quindi la sostituzione della flotta dei Sette con questa nuova versione dei Pacifista. Abbiamo King che quando ci veniva presentato da piccolo, quando veniva salvato da Kaido, parlava di Joy Boy, raccontava di Joy Boy, cercava Joy Boy, lo stesso Kaido era anche un po' preoccupato per quello che poteva essere la profezia legata a Joy Boy, sapeva che un giorno sarebbe arrivato a sconfiggerlo, quindi questo destino dei due che va ad incrociarsi. Abbiamo il governo che paga, è disposto a pagare per avere informazioni, nemmeno corpi, nemmeno vivo o morto come le taglie dei pirati, ma informazioni legate ai Lunariani. Zoro che le ha scoperte all'interno di una lotta potrebbe essere pagato, ma non gliene frega assolutamente niente. Abbiamo Mary Joa, che è la capitale del governo mondiale. È situata anch'essa sulla Red Line, e sappiamo che è molto molto importante la Red Line per tanti motivi, è ufficialmente l'ingresso del nuovo mondo, se non si vuole scavalcare la Red Line e passare per Mary Joa, che è super protetta e quindi è difficilmente penetrabile come meta per oltrepassare e entrare nel nuovo mondo, bisogna passare legalmente sotto la Red Line e quindi a Fishman Island, l'isola dei nomi di pesce. Nelle ultime ore ho letto su internet, su Reddit, un ragazzo che diceva ma non è che a un certo punto andranno a cambiarci la percezione che abbiamo di Mary Joa? Perché anche Laugh Tale, quindi Barzelletta, Laugh Tale, all'inizio ce la raccontavano come Raftel, e invece abbiamo visto che Raftel ma si dice Laugh Tale, cioè quel piccolo, la piccola differenza tra il sentito e lo scritto che poi ha portato a Barzelletta, allo scherzo, quando Gold Roger e Churma che arrivano lì danno un'occhiata, vedono quello che succede e dicono ah cavolo, Joy Boy, avrai voluto vivere ai tuoi tempi, al tuo tempo, è uno scherzo, si mettono a ridere quando vedono il One Piece. E allora non è che Mary Joie può essere vista come Merry Joy o Merry Joy, Merry nel senso Merry Christmas o Going Merry, Merry Joy, Joy come Joy Boy. Questa è una cosa che ho letto ultimamente che è abbastanza simpatica perché secondo me andrebbe un po' incastrarsi all'interno di tutte quelle informazioni che abbiamo adesso. Perché sopra la Red Line e a Mary Joie abbiamo il castello Pangea che non è un nome proprio banale. Non lo è. Non è un nome casuale, non è un nome banale. La Pangea originariamente era l'insieme di tutti i continenti anche se da quanto ho capito avevo fatto un po' di ricerche. Non è stato il primo supercontinente, ce ne sono stati altri però è quello più famoso che conosciamo. Sappiamo che c'è anche questa voce secondo alcuni studiosi che un giorno torneremo ad avere un unico continente in cui tutti i nostri continenti andranno a ricollegarsi. Originariamente questo continente era chiamato appunto Pangea. E perché non è un nome banale, non è un nome scontato perché si incastra esattamente in quella che è la storia oggi che ci sta raccontando Vegapunk. Ma ci arriviamo. Abbiamo l'isolo degli uomini pesce. Tra l'altro mi sono sempre domandato una cosa. Perché Rayleigh che è il vice di Gold Roger Gold D. Roger re dei pirati che è andato a Laftail conosce quello che è il passato i cento anni del secolo vuoto si ritrova nell'arcipelago Sabaudi a fare quei rivestimenti alle navi necessarie per arrivare poi all'isolo degli uomini pesce. non mi sembrava un meccanico o robe del genere perché lì l'abbiamo messo lì no momento trama serviva il maestro per Rufi nei due anni padroniare l'Achi eccetera eccetera ma non è mica solo quello che fa lui lavora anche sulla Sunny e permette alla ciurma di arrivare lì tra l'altro attraversando la Red Line stessa cosa che fece Crocus se ci pensiamo con la Reverse Mountain poi lasciamo stare la teoria del re simpaticissima fa sempre riderissimo Crocus vero villain del manga ma anche Crocus sulla Reverse Mountain proprio dove c'è l'Ovon oggettivamente ha permesso agli Straw Hat di attraversare la Red Line ed entrare in una nuova fascia di mare che è culminata poi appunto con l'arcipelago Sabaudi dove incontrano Rayleigh che permette di passare sotto la Red Line prima sopra poi sotto entrambi entrambi ex membri della ciurma del re dei pirati e allora perché un uomo che conosce tutta la storia dovrebbe mettersi lì a permettere alla gente di passare illegalmente dentro un nuovo mondo secondo me si stava aspettando proprio quell'uomo lì e quindi Rayleigh ha detto va bene diamo una mano e ha scommesso un po' come ha fatto Orso su Rufy piccola congettura però abbiamo l'isola di amici pesci che è situata a 10.000 metri sotto il livello del mare sono andato a riprendermi i capitoli sono andato a leggere poi magari la traduzione italiana era sbagliata però stiamo parlando di 10.000 metri sotto il livello del mare quindi molto molto in profondità abbiamo l'Arcanoa sull'isola di amici pesce abbiamo Poseidon e per la prima volta scopriamo di Joy Boy Poseidon e Joy Boy insieme dovevano utilizzare l'Arcanoa per portare gli uomini pesce alla luce del sole che stona anche un pochettino se ci pensate perché gli uomini pesce dovevano aver bisogno di una barca gli uomini pesce sanno nuotare non avrebbero nemmeno bisogno di una barca però va bene Arcanoa che è stata salvata dal re del mare il re del mare chiamati da Shiraoshi che si scopre essere l'arma ancestrale Poseidon Arcanoa che stava per essere istrutta da Rufy che è Joy Boy dove i re del mare iniziano anche un po' a dire ah questo ragazzo particolare strano ha delle cose simpatiche dei tratti distintivi con Rufy che sente anche i discorsi del re del mare perché come Roger possiede la facoltà di sentire la voce delle cose abbiamo i ponegriff un ponegriff importantissimo nell'isola e gli uomini pesce perché è un ponegriff di scuse di Joy Boy nei confronti della principessa non sono riuscito a mantenere la promessa non ce l'ho fatta e questo è il passato ma abbiamo pure il futuro perché una previsione una profezia una visione di Madame Shirley annuncia che Rufy un giorno distruggerà l'isola e gli uomini pesce e perché mai Rufy dovrebbe distruggere un'isola che è sotto la sua protezione l'isola che ha salvato a costo anche di distruggere Noah che non ha distrutto interamente proprio perché è stata salvata dai re del mare di un'arma ancestrale perché mai dovrebbe distruggerla con anche Gimbe che è entrato nella sua ciurma gli uomini pesce che sono suoi amici perché mai dovrebbe farlo non torna la logica di questa cosa a meno che non debba essere costretto a farlo e arriviamo a Vegapunk all'interno di questa saga abbiamo avuto alcune informazioni secondo me degne di nota che alcune sono scontate secondo me vanno in quella direzione lì altre invece sono molto interessanti e adesso andiamo un po' a parlarne perché Vegapunk ci dice questo mondo credetemi oppure no un giorno affonderà in mare e quando vediamo tutte le reazioni del mondo a questa roba c'è un personaggio in particolare che in questo momento è sott'acqua tra l'altro perché a Marineford scusate a Ennis Lobby ed Edo Flamingo che si mette a ridere parlando con Magellan gli dice eh se entrare l'acqua qua si è rovinati non è che dovremmo trasferirci tutti in un posto molto alto e qual è il posto molto alto che mi viene in mente a me è venuto in mente subito appunto Mary Joie o Mary Joie o Mary Joie vedremo se sarà così oppure no chissà potrebbe essere molto interessante anche perché a Mary Joie abbiamo un cappello di paglia che ci ha mostrato Imu allora perché un cappello di paglia lì? per quale motivo? magari era da lì che veniva Joy Boy ed è per quello il motivo magari è quello il nome del regno antico sarebbe assurdo sarebbe assurdo magari è quello il nome del regno antico non lo so sarebbe essere anche magari il nome del regno antico è proprio lo spelling corretto di Mary Joie adesso le stiamo sparando tutte proprio qua la stiamo sparando però sarebbe essere anche un motivo scoppia questa guerra i lunariani che sanno di Joy Boy vengono da lì vincono la guerra contro Joy Boy e costruiscono proprio lì quello che è il simbolo del nuovo mondo dei venti regni che sono alleati eccetera eccetera sarebbe simpatico sarebbe interessante magari completamente privo di logica però sarebbe interessante e allora Doflamingo la butta lì per scherzo per ridere non è che dovremo trasferirci in alto direzione perché Doflamingo che è un drago celeste ha delle informazioni interessanti e conosce il tesoro di Mary Joie Imusama conosce la presenza del re del mondo lo sa potrebbe anche essere una sorta di battutina con frecciatina e poi abbiamo Vegapunk e Orso che sono uniti dal destino tra l'altro mi viene in mente che abbiamo avuto due dei tre ammiragli principali praticamente negli ultimi capitoli che si sono trovati costretti a tradire o comunque fare del male a quelli che sono stati un po' i loro maestri abbiamo avuto Aokiji con Garp sull'isola dei pirati su Acinosu abbiamo avuto appunto Borsalino con Vegapunk che ufficialmente l'ha ammazzato per quello parte poi il video spiegone di Vegapunk con le ricci trasmittenti che fa incazzare gli astri di saggezza interessante anche questa roba qui però Vegapunk e Orso sono unite dal destino quel destino legato a Nika perché uno è un bucaniere profetta di Nika tra l'altro poi proprio in questa saga arrivano i giganti che si vedono come veri e propri come popolo di Nika i lunariani che conoscono Nika i bucanieri che sono i profetti quindi inizia a esserci un po' troppa gente in questo momento legata a Nika ma Vegapunk Vegapunk di Nika parla in mondo visione e lo mette all'interno della guerra che si è svolta durante il secolo vuoto e ci svela anche che in realtà Nika è stato il primo pirata c'è un'informazione molto importante qui perché ci dice che il regno di Joy Boy era una civiltà talmente sviluppata che anche lui in questo momento sta facendo fatica ad essere a quel livello lì e stiamo parlando di tanto tanto tempo fa e qui entra in gioco quella che è un po' la teoria degli antichi astronauti che sentiamo nomeare tanto anche proprio nei video del re che mi piacerebbe mi piacerebbe inserita effettivamente in One Piece anche se credo che oggettivamente ci sia già e quindi il fatto che in passato alcuni alieni o esseri di un altro pianeta lunariani possono essere arrivati sulla Terra con una tecnologia più avanzata portato questa tecnologia avanzata e poi mischiati un po' nel nostro mondo oppure tornati via lunariani che sono talmente forti che guarda proprio è difficile che li batti perché tra il fuoco sono impenetrabili tutti estinti sono così forti che si sono estinti magari sono semplicemente andati via sono tornati via e King è uno dei pochi rimasti sulla Terra magari e allora magari quel popolo lì che arriva sulla Terra e si stabilisce sulla Red Line e conosce i Joy Boy è proprio lì che c'è quella tecnologia avanzata con il robottone che ha un'energia tutta particolare che è ripartita magicamente adesso proprio quando Rufy risveglia il frutto poi vedremo quali saranno questi sviluppi però il fatto che ci sia una civiltà così avanzata è che Vegapunk nel paese del futuro lo scienziato più intelligente del mondo si è stupito di fronte a questa roba qui per me è un'informazione molto importante e Vegapunk ci racconta anche che la fine del secolo buio coincide con la sconfitta di Joy Boy per quello vi dicevo sarebbe interessante sapere che il nome del Regno Antico in realtà era Mary Joy ed è proprio lì che poi gli hanno rubato anche la casa ripeto magari una fregnaccia incredibile però sarebbe interessante anche perché il nome del Regno Antico deve essere qualcosa che noi conosciamo bene deve essere qualcosa che sentendola ci rimaniamo di sasso perché se no Clover non sarebbe mai stato ucciso se fosse stato un nome da chi se ne fregano gli avrebbero sparato in quel momento con il sangue agli occhi no stai zitto non devi dirlo quindi sarebbe molto interessante Vegapunk ci parla di un cataclisma che fece sprofondare il mondo negli abissi e ci racconta che si vive su dei continenti antichi sopra i continenti antichi che sono stati assorbiti dalle acque ecco io qua una piccola critica ce l'ho però se abbiamo parlato dei pesci che a 10.000 metri sotto il livello del mare l'acqua che cresce di 200 metri nessuno nessuno l'ha mai vista queste civiltà affondate sotto gli abissi stiamo parlando di 200 metri contro 10.000 questa magari l'ho capita male io però una piccola critica qui la voglio fare e si parla di questi enormi continenti di cui si sono perse le tracce appunto perché ci sono 200 metri d'acqua in più e questi 200 metri d'acqua in più hanno modificato la geografia e hanno eliminato le memorie storiche del secolo vuoto secondo me Vegapunk se l'è giocata un po' così anche se è ovvio che viene naturale pensare che ci siano delle razze o comunque delle tribù o dei documenti tramandati nel tempo che magari qualcuno potrebbe dirti no guarda è andata così 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 come se l'è giocata semplicemente su questi 200 metri d'acqua in più ha modificato la geografia e ha eliminato le memorie storiche e parla di questa quest'acqua che è arrivata in più di questi continenti che si sono creati distrutti modificati il mondo diverso dicendo che non è stata una roba naturale ma è stata una roba legata a delle armi e noi sappiamo che ci sono tre armi ancestrale abbiamo già parlato di Poseidon che è Sirahoshi la principessa sirena dei suoi moni pesce abbiamo Pluton di cui Frank aveva i progetti che è una nave da guerra che si poteva ricostruire per spegnere quell'altra ma quella vera è Awano tra l'altro chiudo a parentesi l'Awano sommersa quella sotterranea quella in cui è andata Nico Robin dove il nonno di Momonosuke ha spiegato il perché il per come l'acqua quindi anche lì avevamo già un pochettino il tarlo nella testa ma in realtà il tarlo nella testa ce l'abbiamo ben da prima ben da prima di Awano ben da prima di Eged ben da prima di Lulusia perché Lulusia va messa all'interno dell'equazione perché Lulusia ce la mostrano come se fosse una sorta di bomba atomica che anche qui torna un po' la teoria degli antichi astronauti dove ci parlano di civiltà civiltà indiane testimonianze indiane che descrivono oggettivamente quella che poteva sembrare una bomba atomica ma che all'epoca non poteva essere ovviamente mai stata creata e quindi anche qui una civiltà che magari aveva ottenuto degli oggetti anacronistici che difficilmente poteva trovare a quei tempi lì e quindi magari qualcuno gliel'aveva portato da altri mondi nel mondo di One Piece questa cosa ci starebbe alla perfezione anche perché di Lulusia si dice proprio che è stato eliminato dalla storia sembra un po' il discorso relativo ai cent'anni di vuoto non è mai esistita Lulusia addirittura è eliminata non c'è più traccia e c'è questo terremoto che crea queste cascate che alzano il livello del mare di un metro e Vegapunk su questa roba qua gioca molto nell'annuncio dice oh ragazzi vi faccio una previsione se si avvera preoccupatevi cazzi vostri tanto io sono morto se non si avvera ignoratemi sono un passo sbagliato e tutta la gente dice no cazzo è successo davvero è un profetta ha ragione lui perché sembra una roba assurda quella che dice Vegapunk per il mondo per noi che abbiamo già tanti tipi di indizi differenti un po' meno e perché io vi dico che non è che mi sono più stupito tantissimo di sta roba beh ve l'ho già spiegato il nome Pangea un pochino mi puzza il fatto degli esoni omini pesce il fatto di Lulusia il fatto delle armi ancestrali dell'inanzamento dell'acqua eccetera eccetera si spiega tutto con una parola che abbiamo in One Piece da sempre ma che non si nomina da tantissimo e riguarda Sanji perché all'inizio ne sentivamo spesso volentieri parlare poi è passata un po' in sordina questa cosa ma è l'All Blue l'All Blue l'oceano unico totale come fa a crearsi un oceano unico totale quando c'è un continente solo che non può essere spezzato l'oceano quindi quando c'è una Pangea con tutti i pesci del mondo che vivono nello stesso oceano nello stesso mare quindi l'All Blue e la Pangea sono due concetti che si incastrano alla perfezione la distruzione dell'isola degli uomini pesce potrebbe essere anche la distruzione di Mare Joa quindi Rufi che dovrebbe andare a distruggere oggettivamente la Red Line questa è una teoria vecchissima utilizzando le tre armi ancestrali quindi Sirahoshi che tramite i re del mare riesce a trainare Noa per salvare l'isola degli uomini pesce eccetera eccetera o per distruggere la Red Line magari tramite Uranus magari tramite Pluton è la possibilità di ricreare un unico continente generale anche i Tontatta se non erro hanno parlato negli anni di comunque toti isole ma con una geografia variabile quindi alla fine sappiamo che One Piece è uno shonen ok non conosciamo oggi il sogno di Rufi non lo sappiamo mi piacerebbe no dato che sembra un sogno molto bambinesco un qualcosa che Rufi si porta dietro da quando è bambino e quindi davvero una roba molto alla One Piece molto alla Rufi molto bambinesca un bel brindisi con tutti i popoli del mondo riuniti in un'unica terra per essere tutti fratelli perché sarebbe un bel messaggio quindi One Piece davvero legato a di Binks o a un brindisi qualcosa di questo tipo qui insomma il sogno di Rufi potrebbe essere banalmente una roba del genere ma noi sappiamo che tutti i componenti della Ciuma di Rufi hanno un sogno Robin scoprire la verità sul Regno Antico sui Centanni di Vuoto i Pony Griff eccetera eccetera tutto quello che è stato la sua infanzia la sua vita proprio da quel momento della morte di Clover e ovviamente arrivando a Love Tale questa roba qui la completa Nami che disegna la cartina del mondo girando tutto il mondo e avendo la nuova geografia ce la farebbe tutti i sogni poi arrivano a quel culmine lì è quello di Sanji l'Hall Blue cioè per arrivare a realizzare il sogno di Sanji bisogna in qualche modo modificarla quella geografia di One Piece perché il sogno di Sanji è quello più strano di tutti se ci pensiamo è anche quello un po' più abbandonato da tanti anni quindi vi dico il fatto che ora si stia parlando di geografia di continenti di mare di roba destinata a variare a cambiare di armi che modificheranno la geografia del mondo mi stupisce fino a un certo punto perché come me tanti anni sul web che ascolta tutte le teorie del mondo legate a One Piece anche le fregnacce più brutte saprà per certo che una delle teorie grandi era quella relativa proprio alla distruzione dell'esodo di uomini e pesce la distruzione della Red Line la distruzione del Marichuai eccetera eccetera quindi per me per me è fondamentale perché va a incastrare tanti punti in quella direzione lì e va forse a confermare quella che era la teoria più gettonata più facile più semplice più banale di tutte anche perché Oda l'ha sempre detto io da quando ho iniziato One Piece io al finale ce l'ho ben chiaro in mente e quindi quella parola all blue di Sanji che ci dice all'inizio probabilmente è molto finalizzata al finale va in quella direzione lì quindi secondo me alla fine sarà una roba di questo tipo qui la roba più semplice Ruffi che fa il banchetto con tutti perché sono tutti amici tutti fratelli non c'è distinzione uomo pesce umano lunariano tutti uguali messaggio di fratellanza unico legato a One Piece quello che è One Piece la storia di One Piece la distruzione dell'esodo di uomini e pesce per portare gli uomini e pesce poi alla luce del sole andrebbe un po' anche a ricalcare quello che era il sogno della madre di Sirahoshi quindi annullamento delle diversità eccetera eccetera con Sanji che realizza il suo sogno con Vegapunk che forse si sacrifica e forse no perché con il punk record tutti i ricordi di Vegapunk secondo me non siamo di fronte alla vera morte di Vegapunk però io temo che bene o male si vada in quella direzione lì e gli indizi secondo me sono stati ampiamente riassunti in questo video in tanti anni abbiamo avuto tantissimi indizi che vanno ahimè perché mi piacerebbe dire no guarda non finisce così è un finale che troppo scontato non può essere vero però secondo me ormai si va in quella direzione lì e sono curioso di sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti soprattutto su quel pezzettino lì di Marie Joanne perché ripeto è intrigante si incastra bene ma magari è una puttanata atomica e me la smontate in una frase che io semplicemente adesso non sono riuscito a cogliere fatemi sapere la vostra fatemi sapere se secondo voi One Piece banalmente potrà finire così oppure no sono molto curioso di leggere le vostre motivazioni qui sotto nei commenti di leggere le vostre